Allora qua davanti vediamo la struttura militare tedesca di cui parlavamo prima, la scala settecentesca originale sulla cortina muraria a lato Gargeggi e lassù in cima dove c'è la luce adesso la cannoniera in casa matta di cui dicevamo prima. Proviamo a infilarci qua nella struttura tedesca che praticamente sarebbe il bastione settecentesco di utilizzato. Lui l'ho scarpato, poi ci deve essere stata una tettoia, beh giustamente la struttura sarà stata coperta giustamente, e qui il cimento armato ha coperto i tedeschi quando sono venuti qua, ecco si vede un attimo, si vede bene guarda il bastione superiore lato Bergeggi, con la cannoniera, le finestre, il cordolo, tutta la cortina con quel bello spigolo di protezione alla caserma della stanza dagli ufficiali, e via, questa è guanta.